Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questa puntatona dal colore scrittura creativa la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Philip K. Dick, Words of WIFE 1954 Uomo dorato, The Golden Man Fabula, intreccio lineare con vampiri o demoni del 1932 ed esseri giganti del 1926 tutti immaginati come esseri mutanti, lotto nel 1898 in lotta con gli esseri umani la fabula è centrata sull'uomo dorato un mutante gigante che è uno dei tanti mutanti che compaiono sulla terra da 60 anni è un predatore che si muta di esseri umani assorberdoli gli agenti federali, protogenesi dei M.I.B. Man in Black danno la caccia ai mutanti per difendere gli esseri umani dall'estinzione treccio lineare il colpo di scena della fabula è la capacità dell'uomo dorato di sedurre sessualmente tutte le donne che incontrava per aspergere in modo responsabile la sua progenie come un animale narratore esterno non onnisciente e invisibile e focalizzabile sui personaggi zero empatia con i personaggi principali ambientazioni da X-Five in alcune parti gli spedoni sono doppiamente ripetuti il ritmo della fabula muta in suo porifero anche con dialoghi inutilmente lunghi a un lettore attento l'intreccio dell'uomo dorato appare incoerente in varie parti come se la fabula fosse stata composta appiccicando quattro sequenze relative a tre fabule totalmente diverse tra loro nel complesso sono a mio avviso molto belli i dialoghi dei vari personaggi e anche se talvolta un po' prolissi e lenti scorrono piuttosto bene suggerendo un film mentale in divenire nella mente del lettore Format è un racconto di fantascienza che oggi sarebbe classificato come molto lungo de facto un libro a descrizione di talvolta un po' prolissi che ho dovuto occultare nella traduzione ci sono rallentamenti e parti noiose nell'intreccio con dialoghi e spiegoni e discorsi in diretti liberi che si ripetono essendo inutili al proseguimento della fabola e quindi sono stato tossetto a sintetizzarle come aspetto tecnologico di Ardisch e Fil ci sono sporadiche aperture fante evoluzioni darwiniana dispositivi di ricerca piccoli aspetti di neuroscienza il racconto è etichettabile come fantascienza lontana quasi fantasy elemento di genesi ufologica ecco, gli agenti del governo DCA dotati di tecnologia a potenziamento energetico rappresentano la nascita ufficiale dei Mib Man in Black di cui l'editoria fufologica si nutrirà per decenni con questa puntata è tutto un saluto, ciao, alla prossima